L'ambulanza del mare diventa finalmente realtà. Grazie ad una iniziativa fortemente voluta dalla cooperativa balnearia Confcommercio presieduta da Riccardo Padovano, in tutti i fine settimana di quest'estate, nel tratto di costa delle pescarese fra Marina di Città Sant'Angelo, Montesilvano e Pescara, ci sarà un'ambulanza attrezzata della Life con equipaggio medico pronta ad intervenire in caso di emergenza. Il servizio sarà attivo da sabato 18 giugno a domenica 21 agosto, nei weekend dalle ore 10 alle ore 18 ed il mezzo di soccorso sarà ubicato presso il Lido del Carabiniere sul lungomare nord di Pescara. Quest'inverno ci siamo sentiti con tutti i colleghi degli stabilimenti balneari e abbiamo detto noi dobbiamo essere di supporto all'attività della città. Già noi col servizio di salvamento che facciamo in spiaggia per tutelare i bagnanti era un pallino che ci eravamo messi in testa da prima della pandemia. adesso tutti i sabato e domenica avremo un mezzo, un'ambulanza che servirà alle città di Pescara, Montesilvano e nonché città San Angelo. Certo è un supporto ma sempre un aiuto che noi vogliamo dare alla sicurezza della vita e alla sicurezza di tutti i bagnanti che vengono al mare. Io credo che questa iniziativa sia un'iniziativa che non la facciamo per un periodo limitato ma che il prossimo anno cercheremo di aumentare più giorni. È un investimento che l'abbiamo fatto, siamo contenti di averlo fatto e siamo supportati anche dal comando dei carabinieri che ci ha messo a disposizione presso il proprio stabilimento balneare la postazione fissa in modo che gli operatori in attesa della chiamata stanno al fresco e quindi abbiamo trovato anche questa grande ospitalità da parte del generale Falco dei carabinieri della Legione di Chieti. Questo servizio entra in funzione dalla mattina alle 8 e poi è collegato col 118 quindi le telefonate non è che i bagnanti possono chiamare l'ambulanza del mare. È l'ambulanza dedicata diciamo ai bagnanti del mare ma che viene coordinata dal 118. Ringraziamo il 118 perché l'assessore Verì ha sposato questo progetto e penso che noi come imprenditori stiamo pensando anche un po' alla vita sociale e credo che faccia parte un po' del bilancio delle nostre attività. Nelle nostre attività i nostri bagnanti sono i nostri consumatori, i nostri clienti. Bene, oltre a dare i servizi dell'ombrerone, seggiasdrai eccetera, abbiamo messo a disposizione anche questo servizio.